Ciao amici, buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo video. Continua la saga, ovviamente, back to school, perché siamo rientrati a scuola. Non io, però molte persone sono rientrate a scuola. Quindi ho pensato di fare un video dove vi voglio mostrare qualche outfit super comodo, super comfy, ma nello stesso tempo cool, per il ritorno a scuola. Io non so voi, c'erano dei giorni che passavo andando a scuola, insomma, nel senso, ricercavo bene il mio outfit, mi mettevo anche panta, mi mettevo a volte anche le panta di pelle, sono sincera, super accessori e così via. Degli altri giorni invece molto più easy, molto più comfort, molto più comfort zone, insomma, e molto più tranquilla. Dipende. Diciamo che io, in questo video, vi voglio dare tre idee outfit abbastanza particolari, colorate, cool, ma nello stesso tempo sì particolari, ma molto comode. Per diverse giornate, diverse situazioni di scuola. Secondo me sono perfetti anche per l'università, cioè io andavo tranquillamente vestita così all'università. Dipende tutto molto dalla vostra scuola, quindi è ovvio che da scuola a scuola possono cambiare alcune cose, perché ci sono delle scuole che impongono determinati canoni, determinati vestiti che non si possono mettere, tipo pancia scoperta, tipo panta di pelle, robe del genere, altre scuole invece non fanno casa a questo. Io fortunatamente sono andata in delle scuole sia superiori che università, nelle quali ognuno si vestiva come voleva, e insomma parte magari i piercing, tipo il mio septum che dovevo togliere quando andavo agli esami, eccetera eccetera, per quanto riguarda i vestiti non ho mai avuto problemi, quindi io vi mostro dei vestiti che ho sempre potuto utilizzare nelle mie scuole, però purtroppo sappiamo che ci sono anche delle scuole che impongono certi canoni, quindi ad esempio no, pancia scoperta, quindi insomma dopo andate ad adattare voi gli outfit in base alle vostre esigenze. Sono in piedi per con video un pochino più dinamico e questa cosa mi fa sentire anche più vicino a voi, fatemi sapere se vi piace anche questo genere di video un pochino più dinamico, insomma. Quindi tre idee outfit che vi mostro con Oseans Apart, che sapete essere un sito di completi sportivi, che potete utilizzare sia per fare sport, palestro, qualsiasi tipo di attività fisica, ma anche per uscire, perché la loro caratteristica è quella appunto di essere fenomenali, quindi super mega comfort zone, super mega comodi, ma nello stesso tempo belli, e quindi non sono adatti solo all'attività sportiva ma anche proprio per uscire, cioè per uscire, andare a fare una passeggiata, andare a fare un aperitivo, uscire anche di sera, perché no? E quindi ho deciso di abbinare questi set sportivi a degli outfit in modo tale da avere nello stesso tempo dei set che potete utilizzare in palestra, eventualmente anche per l'attività sportiva a scuola, ma che potete sfruttare al massimo e quindi utilizzare proprio come degli outfit giornalieri per il vostro back to school. Nostra Nostra Part, come sapete, è un'azienda in cui io credo molto, perché è, a parte avere dei prodotti di ottima qualità, che io utilizzo, lo sapete se mi seguite già da mesi, mesi e mesi, nello stesso tempo è super attenta alla scelta dei materiali e all'ambiente, e secondo me questa è una cosa fondamentale. Parliamo di materiali riciclati, organici, rinnovabili, vegani, ecosostenibili, quindi un'attenzione, una cura ai dettagli, all'ambiente e al clima, che secondo me fa ovviamente la differenza. Ma partiamo subito con il primo set, perché partiamo con un colore meraviglioso. Ah, ovviamente, quasi dimenticavo, utilizzate il mio super codice sconto. Non è un codice affiliato, ma vi consente di risparmiare. Questo qua è il codice WAVES30, e avete il 30% su tutto quello che volete, come lo volete, anche le cose scontate, e in più, per non farci mancare nulla, avete un omaggio a vostra scelta. Ci sono dei fantastici bra, delle fantastiche pants, delle felpe, cioè c'è di tutto tra gli omaggi, veramente meravigliosi, quindi io vi consiglio di approfittare di questa super mega promo. Il primo completo è il Sydney Sweat Set Deluxe, che è questo completo di colore verde. È una punta di verde che a me piace tantissimo, così si vede ancora meglio la punta di verde che è, perché non è né troppo sgargiante, ma nello stesso tempo né anche troppo chiaro, quindi secondo me è ottimo. Le pantano ha la caratteristica di avere la fascia in vita elasticizzata e a costine. Le costine scendono anche sulla gamba, fino in fondo, proprio per dare un effetto super elastico, confortevole, che abbraccia le forme del vostro fisico. Il logo lo avete qua, ed è in argento. E c'è anche ovviamente il suo bra, che ha la caratteristica sempre di essere a costine, quindi super contenitivo, coppe removibili, e la parte dietro è fatta così per mettere proprio in super risalto la zona del dorso. Ovviamente questo potete sceglierlo anche di non indossarlo nel vostro outfit. Ma la parte più interessante è lei, ovvero la felpina, la sweeter crop top. Anche in questo caso abbiamo questa trama leggermente a coste, ma super mega morbide. Il logo è dello stesso colore della felpa, quindi tono su tono, Questa cosa, secondo me, è molto cool, come la scritta in tutta la felpa, nella manica, appunto, Oceans Apart in bianco. Qua avete anche il laccetto, per farla più corta o più lunga, in base alle vostre esigenze. Quindi questo qua è il primo completo verde. Ho deciso di arricchirlo con dei pantaloni della tuta bianchi, super comodi, secondo me il bianco e il verde ci stanno benissimo insieme. E poi ho messo la mia felpina per rendere tutto ovviamente più caldo. Se volete sotto ovviamente ci potete mettere anche una classica maglietta bianca. E come vedete la parte bella della felpa è innanzitutto che potete arricciarla in vita e quindi metterla più corta o più lunga in base alle vostre esigenze. Quindi potete metterla sotto il pantalone, sotto il jeans, ma anche un pochino più, più alta, come ho fatto io in questo caso. E davvero così, raga, a me piace tantissimo. E l'altra parte bella è tutta la scritta. Il secondo completo che vi mostro l'ho pensato per una giornata fredda ed eventualmente anche una giornata in cui avete sport a scuola o post scuola e non avete tempo per cambiarvi. Questo è il Susan Set Deluxe e la colorazione è laser blu. È un blu fantastico, un blu primario. Veramente una colorazione stupenda, secondo me l'ho usato più e più volte. Anche mamma lo adora. Ha sempre la fascia elasticizzante qua nella vita a costine che quindi dà questo effetto pancia piatta. E questi sono dei ciclisti bikers, però non troppo corti, ma un pochino più lunghi. Quindi sono ottimi, secondo me, per dare un tocco cool all'outfit scolastico che dopo vi faccio vedere nella prossima clip. Ma nello stesso tempo sono perfetti anche per fare palestra, soprattutto se siete persone calorose, quando vi allenate, tipo me. E quindi non sono troppo corti, ma neanche lunghissimi, che fanno super caldo. Io questi completi li utilizzo anche in inverno. E sopra avete sempre il bra, logo bianco in questo caso, con sempre la parte dietro che mette veramente super il risalto, la parte dietro. Ovviamente potete scegliere poi di metterci una maglietta sopra se il bra è troppo corto, secondo voi, per fare palestra. Ma la parte interessante di questo outfit è la felpa. Questa veste è super mega over, fate conto che questo è un XS. Io utilizzo XS di tutti i completi Oceans, se vi interessa. Anche in questo caso il logo è tono su tono. Le maniche sono lunghe, è una felpa over che adoro, ma soprattutto la cosa bella è che è super mega calda. Vedete che è rivestita all'interno, quindi secondo me è perfetta per quelle giornate fredde ed è veramente comodissima per la scuola. Un paio di jeans, questa felpa, di questo colore. Avete un outfit super mega comodo, ma nello stesso tempo super cool. Perché questo blu è veramente qualcosa di pazzesco. Secondo set è questo qui, appunto, blu. Cioè, guardate, il colore è pazzesco. È un blu elettrico fantastico che secondo me si abbina perfettamente con dei jeans a lavaggio chiaro. Quindi ho messo il mio jeans a zampa, quindi largo, con il mio blu che è spunto. Ho abbinato le Jordan blu perché ci stanno benissimo, rendono proprio tutto più figo. E poi ecco qua la mia felpina che ovviamente potete abbinare anche semplicemente con un leggings e rende tutto molto più caldo. L'ultimo outfit l'ho pensato per una giornata invece di pioggia. Questo è molto simile all'altro, ma, cioè, è fatto nello stesso modo, ma di un altro colore sempre super cool, per non passare mai inosservati. Ma nello stesso tempo ha questa giacca a vento, secondo me ottima per le giornate appunto ventose o di pioggia. Parlo del Susan Jacket Set Deluxe. Questo è nella colorazione Sunset Pink, ma sul sito c'è anche una colorazione arancione. È questo fucsia meraviglioso, abbiamo sempre i biker con la mia banda elasticizzata in vita. Logo argento, cioè, veramente spettacolari. Ah, poi la parte bella di questi bikers è che dietro hanno proprio questa forma che mette il risalto, il lato B. E ho sempre il mio magico toppettino rosa che potete scegliere di usare, non usare, e così via. Ma la parte interessante è lei, che è la jacket, la giacca a vento, come vedete, impermeabile. Quindi se piove non vi bagnate. Io odio gli ombrelli, ragazzi. Ho sempre odiato gli ombrelli, soprattutto per andare a scuola mentre eravamo a fare ricreazione. O io andavo a scuola in centro a Bologna, c'erano i portici, ma nel momento in cui andavo da un portico all'altro non mi andava di aprire e chiudere l'ombrello, anche perché mi infradiciavo tutta. Questa qui, secondo me, è un'ottima soluzione per fare quei tratti brevi. E se non mi piace l'ombrello, ho semplicemente da abbinare all'ombrello per proteggervi ancora di più. Quindi, ottima anche per le giornate di vento, perché è ovviamente una giacca a vento. E nella parte sotto ha sempre questi elasticini per allargare e stringere come volete, e la cinta da legarla in vita per renderla più stretta e nello stesso tempo dare quel colpo in più. L'ultimo set è quello fucsia, sempre col ciclista, e secondo me tocco top è il nero. Quindi ho abbinato questo pantalone nero cargo, essendo l'outfit da pioggia ho abbinato lo stivaletto in pelle nero, e così ovviamente pioggia non crea nessun problema. La mia giacchetta a vento, che ha la mia cerniera e il mio cordino in vita per stringere tutto e renderlo sempre più cool. E poi, ovviamente, anche il mitico cappuccia. A me questo look piace tantissimo. E rose e nero abbinati, secondo me, ci stanno da Dio. E nulla ragazzi, questi sono tutti i miei outfit, io spero che questo video, diverso dal solito, un video outfit, un video back to school e un video sportivo tutto abbinato nello stesso tempo, vi sia piaciuto, se è così mi raccomando iscrivetevi al canale, seguitemi sugli altri social, Instagram e TikTok, dove pubblico un sacco di contenuti tutti i giorni, quotidianamente. Io vi ricordo come sempre che ci ritroviamo il prossimo mercoledì ore 14 per il nuovo video, ma continuate a seguirmi perché sto caricando anche degli shorts, degli altri video, anche qui su YouTube. Io come sempre vi mando un enorme bacio e noi ci vediamo al prossimo video!